Siamo vedete all'esterno degli spazi allestiti da Gulliver, dalla Onlus Gulliver insieme poi al patrocinio della Regione per la mostra fotografica di Monica Cicciarello. Monica Cicciarello è una fotografa pesarese che una 15 anni fa è stata scoperta da chi la seguiva sui social bravissima nel cogliere proprio le emozioni, le sensazioni che possano trasmettere situazioni particolari. Ha fotografato per esempio l'interno del San Domenico a Pesaro, ha fotografato delle donne sulla spiaggia capaci di farci capire cosa significa in tanti casi la solitudine e la voglia di rinascita. La mostra è stata inaugurata giovedì alla presenza anche di molte istituzioni pesarese durerà fino a domenica, è visibile qui negli spazi antistanti all'auditorio Scavolini quindi davvero è bellissimo poter vedere queste foto, invitiamo tutti coloro che possono farlo a visitare questo luogo peraltro che come vedete è stato allestito nel Bosco che cammina, una delle realizzazioni artistiche legate a Pesaro capitale della cultura 2024. La mia passione rimane sempre la libertà di fotografare quello che sento io quindi adesso in questo caso dove siamo adesso si parla della possibilità che mi ha dato il comune di entrare dentro l'ex ospedale psichiatrico San Benedetto per ben due volte e ho cercato di attraverso questi scatti che sono qui anche di perché dentro ci si emoziona molto nonostante sia vuoto, senti proprio il vissuto di 50-60 anni di storia di persone sofferenti, ho cercato di comunicare a chi non può entrarci anche attraverso dei soggetti l'ospedale psichiatrico che non avrebbero mai visto. Per una volta, visto che Monica ci ha sempre aiutato sia come Gulliver che come Iopra per una volta voglio riunire le due associazioni e cercare di dare una mano a Monica e così Gulliver ha partecipato economicamente e lo Iopra ha partecipato economicamente ma indirettamente tramite la regione Marche perché abbiamo chiesto un finanziamento e ottenuto tramite la nostra consigliera Vitri e quindi insomma una serie di attori per dare vita a questo spettacolo che con molta fatica abbiamo proprio montato anche fisicamente io e Monica e alcune sue amiche di cui sono molto orgogliosa ma soprattutto perché vedo negli occhi di Monica una bella felicità. Racconta soprattutto un paio di cose, le donne e quindi la loro difficoltà quando cadono per mano degli uomini o di qualcuno che le fa del male e la loro grande forza nel risalire la china e poi c'è questo momento molto intimo, molto toccante che Monica ha voluto creare nell'angolo estremo dedicato ai più deboli perché Monica li ha fotografati non solo ha fotografato le persone ma poi si è proprio introdotta all'interno del San Domenico e ha realizzato alcuni scatti che secondo me sono molto suggestivi e raccontano tanto. Con questa mostra lei ha esposto il suo lavoro fotografico storico con un senso molto grande e in queste foto che poi tutti i cittadini potranno vederli in questi giorni perché la mostra si mantiene fino a domenica il senso è la solitudine, l'essere lasciato solo, abbandonato e quindi il discorso sociale perché purtroppo oggi come oggi i legami non ci sono più.